Napoli vive un vero e proprio fermento culturale, spesso vi raccontiamo di spettacoli che sono in scena proprio nella nostra città. Oggi vi parliamo di un lavoro che veramente è da non perdere, lo definirei così, dal titolo Racconti del Mistero. Ne parliamo questa mattina con i nostri ospiti e quindi do il buongiorno e saluto a Diego Somaripa. Ciao, ciao Diretta. E Dolores Gianoli, buongiorno. Buongiorno Diretta. Innanzitutto benvenuti. Iniziamo a parlare di Racconti del Mistero. Diego, inizio proprio da te. Lo spettacolo sarà in scena, lo ricordiamo, i prossimi due weekend, quindi doppio appuntamento per tutti i nostri telespettatori al Teatro Tram di Napoli ed è tratto dai racconti di Salvatore Giacomo. Salvatore Giacomo è veramente un autore che in questo momento a Napoli è veramente molto rivalutato, non è vero? Assolutamente. Parliamo di un autore meraviglioso che abbiamo, ma soprattutto di questo libro che ha riscoperto, cioè un libro raro che Mirko Di Martino, l'edettore artistico del Teatro Tram, mi ha proposto, racconti del mistero che pochi anche addetti ai lavori conoscevano. E abbiamo trovato dei racconti stupendi e quindi è stato difficile anche scegliere quali di questi mettere in scena. Tra l'altro il poeta, lo scrittore dell'amore, il poeta dai versi meravigliosi, leggeri, soavi, affondare le mani nel mistero. E quindi è un crossover teatrale, narrativo e anche canoro che ci è piaciuto tantissimo mettere in scena e che tra pochi giorni debutterà a teatro. Il mistero e Napoli vanno un po' a braccetto. Tu hai curato l'adattamento e la regia? L'adattamento l'ho curato insieme a un altro bravissimo autore che è Emanuele Scherillo. Lui è un autore di gialli. Sendo io più abituato ad un altro tipo di teatro, lavorare in commedia oppure comunque teatro sociale, altri tipi di spettacoli, avevo la necessità di avere un autore che era aderente appunto agli scritti di Di Giacomo e dalla narrativa li abbiamo portati alla drammaturgia. Il poeta dell'amore che però si presta direi in maniera meravigliosa al giallo. Sì, sì ed è molto interessante perché io ero curiosissima, cioè non me l'aspettavo ecco. Quando mi è stato proposto il progetto ero veramente, non lo so, eccitata anche perché Di Giacomo l'ho sempre apprezzato molto. Molte delle sue poesie sono diventate canzoni, le cantiamo tuttora, fanno parte della cultura napoletana. E penso che ancora di più diventi un autore importante perché fare questo cambio, esplorare la propria interiorità, ricercare ancora dove si può arrivare, cos'altro si può scrivere, è davvero bello. Una veste sicuramente insolita per Di Giacomo, che cosa dobbiamo aspettarci da questa messa in scena invece? Beh, sicuramente un'esperienza nuova che abbiamo cercato di portare anche, non voglio dire alleggerendo dei toni noir, perché è un po' anche noi scopriremo cosa accadrà, visto che comunque anche col pubblico in teatro tutto può cambiare, tutto può... C'è un'interazione? Vuoi dire questo? Sì, non la sminiamo. Un minimo di interazione c'è sempre. Cercando di dire cose misteriose. Diego, il lavoro è stato fatto, immagino sia stato anche un lavoro duro per portare poi a quello che sarà lo spettacolo in sé, che sarà sicuramente uno spettacolo innovativo. Com'è stato mettere scena per te Di Giacomo, questo Di Giacomo? Esatto, quando ti confronti con un autore così maestoso, lavori sempre con grandissimo rispetto per quello che è l'autore. E allora pian piano ho cercato di portarlo al mio linguaggio, a quello che volevo io e a quello che poteva essere già da allora un pretesto per portare questi scritti in scena. E quindi abbiamo trovato nella struttura, come diceva Dolores, che viaggia attraverso la commedia per poi inciampare, così strada facendo, nel paranormale, per quanto riguarda un atto unico, nell'horror e nel giallo, verso la chiusura dello spettacolo, che credo sia proprio quello che vuole il libro. E quindi rispettando l'autore ma mettendoci del nostro. E poi anche grazie agli attori che tu hai in scena, quindi scrivendo delle cose proprio su di loro. Ad esempio il libro ci suggerisce un host grosso, brutto, e noi diventiamo bellissimi e meravigliosi con Evelyn. Ecco Dolores, ritorno da te, entriamo proprio nel dettaglio. Questo, possiamo dirlo, è un misteri drama. Assolutamente, mi piace. Mi piace come domicione. Mi piace, grazie. Ambientato in Germania, dove i protagonisti sono veramente bizzarri, perché sono crudeli, sono grotteschi, e si contrappongono con quella che poi è la figura dell'autore che indosserà, in questo caso, i panni dell'investigatore. Esatto, sì. Quindi un vero e proprio giallo in scena, Dolores. Beh sì, diciamo che, ecco, noi portiamo in scena tre racconti, e in questi tre racconti c'è anche un gioco delle parti a un certo punto, quindi noi stessi, il teatro nel teatro, in parte, e noi stessi poi scopriamo delle cose successivamente, quindi per questo dicevo, insomma, l'atmosfera misteri drama può rivelare molte altre cose via facendo. Ci stiamo avvicinando anche a Dallo. Perfetto per l'occasione. Perfetto, direi. Perfetto per la Napoli tutta, poeta, drammaturgo, saggista, in quale veste lo ami di più? Ma, sai, come dire, Diego Armando Maradona, che cosa faceva meglio? Un dribbling? Un tiro? La visione di gioco, cioè, è quasi impossibile. È chiaro che lui è conosciuto e più per le canzoni. Era De Maggio, Spingo le francesi, La luna a mare chiaro, però ci sono dei testi che quando li riscopri sono meravigliosi. Anche le poesie. Le poesie, la Sam Faddi, poi ci sono i suoi testi, Ufun Caverde, però se potessi io dare un consiglio al pubblico, dico, oltre a riscoprire e venire a teatro a vedere questo spettacolo, riscoprite questo testo, perché è un Di Giacomo che non siamo proprio abituati. Inedito. Assolutamente. Ma tu la senti un po' di responsabilità? Mamma mia, tantissima. Io la sento normale quando faccio i miei testi, figuriamoci se lavoro su un mostro sacro come Di Giacomo. Certo che la sento. Dolores, che cosa ha significato invece per te portare in scena la filosofia di Di Giacomo? Beh, io, per me è stato molto importante, perché essendo una figlia mista, metà napoletana, metà ivoriana, ho sempre avuto la curiosità di portare in scena degli autori napoletani così importanti, che fanno parte dell'epoca d'oro. E con Di Giacomo, ripeto, è stato molto stimolante, ecco. Quindi significa ancora adesso tanto per me. Significa tanto. Diego, in chiusura, perché non possiamo perderlo? Perché? Ma no, ma questo è imperdibile, questo spettacolo. C'è la musica, c'è la canzone, c'è la musica dal vivo. Si ride, si sogna, perché c'è sempre la componente poetica nei miei spettacoli. C'è il giallo, il Teatro Tram è centralissimo, il periodo è adattissimo, quindi venite a scoprire. Non potete mancare, ricordiamolo, i prossimi due weekend al Teatro Tram di Napoli con Racconti del Mistero. E io ringrazio veramente i nostri ospiti che sono questa mattina con noi, Diego Sommaripa. Grazie. E io ringrazio veramente i nostri ospiti.